buongiorno ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti al din don caffè oggi un din don caffè che parla di matrimonio e voi direte ma come ne faccio io del matrimonio sono piccolo sono un bambino mica mi devo sposare a parte il fatto che io quando ero bambino già mi volevo sposare sì c'era una ragazzina e io dicevo che aveva i riccioli attaccati ai capelli si chiamava teresa eravamo all'asilo io avevo già deciso che l'avrei sposata e come mai vi dico questa confidenza è perché io credo che il desiderio di sposarsi è un desiderio che arriva da molto lontano non è vero che i bambini non hanno questo desiderio forse poi dopo sì infatti dopo forse è andato via mi ricordo che dicevo no a me le bambine non mi interessano non sanno neanche fare la lotta ho sempre però avuto grandi amicizie al femminile perché perché l'uomo e la donna sono profondamente diversi il sacramento del matrimonio parte da una differenza una differenza grandissima guardate sono molto sciocchi quelli che dicono che i maschi e le femmine sono uguali no non è vero sono meravigliosamente differenti alle bambine piacciono alcune cose i maschietti piacciono altre poi ci sono alcuni maschietti a cui piacciono molte cose che piacciono le bambine ad esempio anche a me piaceva tantissimo giocare con loro perché erano molto allegre spesso molto chiaccherine io ero un po magari un po più timido così poi in realtà io non facevo la lotta perché poi ero debolino quindi gli altri maschietti però ad esempio correvo molto forte insieme agli altri maschi ma cosa c'entra tutto questo col matrimonio ecco sì che c'entra c'entra perché il matrimonio è quel sacramento dove l'amore di un uomo e di una donna vengono messi sotto l'amore di dio e adesso vi faccio io una domanda chi celebra il matrimonio chi celebra il matrimonio il matrimonio lo celebrano gli sposi non il prete attenzione questa era una domanda tra bocchetto e i ministri del matrimonio sono gli sposi infatti la formula del matrimonio dice io gigetto accolgo te gigetta nella mia vita ok e lo stesso dice gigetta verso gigetto sono loro due e il prete cosa fa il prete assiste il prete vede il prete sa che lì sta succedendo qualche cosa di grandioso e che cos'è questo sacramento è l'accoglienza di uno nell'altro e insieme chiedono a dio di benedire il loro amore perché vedete l'amore umano è molto fragile anche voi lo sapete anche il tuo migliore amico qualche volta non ti è amico anche la tua migliore amica qualche volta ti ha parlato alle spalle ti ha fatto piangere o ti ha fatto quel dispetto l'amore umano è estremamente imperfetto e soprattutto l'amore umano fa molta fatica a perdonare mentre invece l'amore di dio è infinito è capace di perdonare qualunque cosa ecco perché nel matrimonio si dice nella salute e nella malattia nella buona nella cattiva sorte quando c'è il sole e quando piove forte quando le cose vanno bene quando le cose vanno male la promessa che uno fa all'altro è proprio eterna è davanti però uno dice anche però noi magari non ce la facciamo vogliamo che sia dio che ci garantisce che questo sentimento che noi abbiamo l'uno per l'altro è grande quanto basta per tutta la vita e quindi chiediamo a dio di aiutarci e qui si scatenano un sacco un sacco di domande di curiosità ma qual è l'età minima per sposarsi allora l'età minima per sposarsi è un po complicata da spiegare comunque diciamo i 16 anni quindi se sei minorenne devi chiedere il permesso ai tuoi genitori comunque l'età minima potrebbe essere quella ma non c'è un'età minima nel senso che quelli lì sono gli anni bisogna essere belli maturi bisogna fare le cose bene perché essere innamorati è facilissimo e anzi gli innamoramenti più belli sono proprio quelli dell'età più semplice dove le cose sono semplici della vita penso alla preadolescenza l'adolescenza però però dopo la vita è lunga e quindi non ci si può sposare così soltanto perché stiamo bene insieme poi c'è la domanda che mi faceva un altro bambino mi diceva e ma quanto dura il matrimonio il matrimonio dura come l'amore cioè per sempre ecco perché quando ci si sposa non ci si sposa a tempo dice ma io ti sposo per 15 giorni ti sposo per 18 anni poi dopo basta e questa cosa non ha nessun senso o l'amore è per sempre o non è amore e deve essere totale non può essere un po sì o un po no il matrimonio come sacramento continua anche se le due persone non si vogliono più bene perché vi ricordate che cosa continua continua l'amore di dio cioè l'amore di dio continua ad amare quei due gigetto e gigetta anche se loro non si vogliono più bene ecco perché il sacramento del matrimonio non si può spaccare non si può separare beh poi possono succedere situazioni di vita drammatiche dove magari la mamma e papà si sono separati dove si sono allontanati uno dall'altro però in realtà il loro sacramento del matrimonio è sempre valido è sempre non si può sciogliere ecco perché non ci si può risposare in chiesa con il sacramento perché quel quella quel primo giuramento è stato il giuramento dove anche dio ha giurato eterna fedeltà poi sono cose un po complicate magari nella vita delle persone quindi è bene parlarne con i propri genitori oppure affrontare di questione in questione perché sapete la vita della gente è molto complicata è qualche volta davvero qualche volta anche qualcuno piange perché è stato tradito nell'amore eccetera però però noi dobbiamo non guardare soltanto le ferite noi dobbiamo guardare la gioia che c'è un'altra domanda era ma chi sono i testimoni i testimoni sono gli amici dello sposo gli amici le amiche della sposa e così via ma non c'entrano con il sacramento del matrimonio è quelli c'entrano per gli effetti civili del matrimonio cioè perché lo stato dice siccome tu ti sposi ti sposi in chiesa questo vale anche per lo stato in italia non dappertutto è così e allora noi vogliamo che ci siano dei testimoni che sono lì a dire sì sì li abbiamo visti noi che si sposavano ok e quindi i testimoni servono a questo poi perché si porta l'anello ecco no questo anello non c'entra niente col matrimonio poi un giorno vi spiego che cos'è l'anello perché si porta l'anello per non dimenticare lei mette l'anello al dito di lui lui mette l'anello al dito di lei per dire anche quando noi magari siamo lontani te vai a lavorare di qui io sono a lavorare di là basta toccare l'anello ti ricordi che io ci sono è questo anello è simbolo del nostro amore dovrebbe essere un anello fatto di corda per ipotesi e non è necessario che sia d'oro certo molto spesso sono anelli preziosi perché uno dice beh insomma tu sei importante per me vado a spendere una cifra importante per te però potrebbe essere fatto della cosa più semplice poi c'era un'altra domanda che diceva quando gli sposi firmano certo c'è un registro c'è un grande libro dove gli sposi firmano l'atto del matrimonio e voi potreste andare nella casa parrocchiale della vostra parrocchia andare a cercare l'atto di matrimonio dei vostri nonni dei vostri bisnonni potreste andare a cercare il giorno delle loro nozze e questi registri pensate che sono importantissimi nella chiesa ci sono registri di matrimonio che risalgono a secoli e secoli e secoli indietro ed è possibile andare a recuperare gli atti di matrimonio dei nostri avi quindi quei libri sono molto importanti per la chiesa perché dichiarano che lì è successa una cosa grande che due innamorati di gesù si sono innamorati uno dell'altro e hanno chiesto proprio che sia dio a benedire il loro amore e poi sicuramente ci saranno un sacco di altre domande sul tema del matrimonio e del matrimonio vissuto in chiesa fatele le vostre domande al canale di telegram chiocciola aquila riflessiva quando c'è un matrimonio andate e partecipate alla gioia cominciando a pensare se anche voi volete questo per la vostra vita avere dei figli e generarli dentro in una vita bella così e soprattutto imparate a stupirvi perché l'amore umano è meraviglioso l'amore umano è meraviglioso e noi dobbiamo imparare a meravigliarci tutte le volte che una persona è capace di amare lì è un miracolo è un miracolo meraviglioso e quindi impariamo a meravigliarci per essere meravigliosi facciamo la cosa giusta nel momento giusto buona giornata a tutti voi e salutatemi tutti quelli che sono sposati ciao ragazzi grazie